Buonasera ai nostri telespettatori. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuto al mio ospite che è Mauro Checcoli, cavaliere, vecchio amico, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, individuale a squadre, tanto per dire la cosa più nota. E' qui perché con questa trasmissione noi affrontiamo il tema delle prossime elezioni federali che saranno il 23 di gennaio. E quindi intervisterò sia Mauro Checcoli che ha dato la sua candidatura e che adesso ci racconterà perché lo ha fatto e perché forse ha deciso di smettere di farlo. Marco Di Paola avremmo molto volentieri intervistato anche il cavaliere Orlandi il quale però purtroppo come d'altronde è successo anche due anni fa in occasione delle precedenti elezioni non ha avuto o trovato il tempo per poter venire in trasmissione da noi. Ce ne dispiace e facciamo comunque auguri a tutti e tre e che vinca il migliore. E adesso Mauro, allora, che ti è venuto in testa? Io avevo come sempre nella mia vita cavalcato l'ideale e per me l'ideale per la FISE era quello di usare tutte le risorse disponibili, le risorse umane disponibili, le energie di tutti per fare veramente un rinnovamento della nostra equitazione. Io vedo in maniera tristissima, girando per i campi ostacoli, i campi di prova, i campi di gara, quando vado in giro a vedere che c'è un livello bassissimo dal punto di vista della cultura proprio equestre è che questo avvenga nel paese che ha inventato l'equitazione moderna con una tecnica che quando viene usata in tutti i paesi del mondo è vincente vedi stati unitensi, vedi francesi, vedi inglesi, vedi alcuni tedeschi, vedi alcuni svedesi dove questa tecnica è applicata nella sua integrità, nella sua totalità, anche adattamenti moderni, i campi moderni, gli ostacoli moderni voglio dire con tutto ciò è quell'equitazione, che cos'è? Niente altro che l'equitazione veloce perché l'equitazione capriliana è l'equitazione della velocità Certo, perché nasce per la cavalleria Nasce perché il cavallo esprima tutte le sue potenzialità partecipando con il cavaliere a formare un binomio quindi quando questo avviene si è vincente e siccome noi possiamo farlo che in questi 20 anni da che io ho girato le spalle dalla Fise e non mi sia più fatto vivo per colpa mia, per carità tutto ciò si è declinato, si è diventato sempre peggio questo mi dà veramente un gran fastidio ecco perché mi ero canale speravo con il mio intervento di convincere Marco Di Paola e Vittorio Orlandi ad accordarsi e fare un'unica compagine E invece non è stato così e quindi noi andiamo a una battaglia a due perché mi pare di aver capito visto che parlavi al passato certo, io ho provato a mettere d'accordo Vittorio e Marco sembrava che la cosa funzionasse le intenzioni mi erano state espresse positivamente poi invece strada facendo Marco è rimasto dell'idea di provare a fare questo accordo in realtà Vittorio Orlandi ha detto che no che lui aveva già preso degli impegni che quindi non intendeva in nessun modo declinare dalla sua candidatura quindi ho preso tempo fino a che c'era lo spazio il tempo per che il fatto avvenisse cioè fino a sabato scorso anzi fino a lunedì scorso ieri l'altro perché questo significava potere che chi si ritirava si poteva candidare come consigliere non è successo nonostante che io abbia continuato a mandare dei messaggini amorevoli a Vittorio Orlandi perché riflettesse e questo non è successo e quindi ovviamente il mio tentativo non ha avuto successo e quindi mi ritiro In un'intervista che tu hai rilasciato recentissimamente hai detto che eri sostanzialmente abbastanza d'accordo con il famoso albero di Orlandi Sicuramente Che cosa è successo? Che è rimasto sulla carta che è tutto il bellissimo piano che prevedeva un innalzamento della qualità delle società sportive degli istruttori soprattutto gli istruttori mediante un piano da concordare un piano da come dire attuare volontariamente è sparito in 20 mesi non se ne è più parlato hanno lavorato le commissioni per fare il sistema unico italiano che è rimasto lettera morta chi ha lavorato in federazione produceva dei risultati che poi non venivano portati all'attuazione e quindi Si è parlato anche di uno scordinamento all'interno degli uffici federali Io so che il segretario generale è molto arrabbiato con me perché dice che io sono stato offensivo io mi sono permesso di dire che è una federazione complicata molto complicata complessa dal punto di vista della varietà di discipline e degli attori partecipanti al sistema ha bisogno di un manager che sta lì dalle 8 del mattino del lunedì fino alle 8 della sera del sabato sempre presente anche un bravo professionista un eccellente avvocato come sicuramente io non conosco le sue capacità professionali come lui facendolo così non può avere nessun successo per cui l'ufficio funziona come può le persone anche dotate di buona volontà alla fine non hanno nessun coordinamento un ufficio non sa quello che succede nell'altro mi è stato detto così io non che vivo dentro gli uffici è una cosa che ho sentito è una cosa che abbiamo sentito in molti ho sentito dire da tanti quindi evidentemente un minimo di realtà cesso senti tu hai scelto quindi di dare una mano a Marco cosa ha di positivo? è il futuro sì questo d'accordo è il futuro prima di tutto è una questione anche anagrafica non bisogna nasconderci io sono vecchio quindi mi sarei candidato anni prima se avessi ritenuto di poter fare qualcosa di positivo ma è meglio lasciare il campo ai giovani ecco in linea di principio ma fondamentalmente perché Marco Di Paola condivide fortemente quelli che sono le opinioni che noi vecchi cavalieri dell'Accademia Caprile abbiamo sempre espresso che cioè occorre rigore nell'insegnamento cultura nell'insegnamento capacità di coinvolgere le famiglie nel far migliorare i giovani quindi vivaio 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 questo è quello che abbiamo di questa parte che è essenzialmente tecnica e culturale la nostra opinione umanime unanime è che i prattori del vivaro non sono trascurabili sono un patrimonio direi proprio di no sono un patrimonio enorme che tutti ci invidiano e qualcuno ha inventato di dire che i prattori sono un costo che non ci possiamo permettere io ho dimostrato con i miei amici dell'Accademia Caprilli che in pochi mesi pochi mesi abbiamo riaperto i prattori con l'intervento della FISE zero quindi non è vero quello che viene detto falsamente ma poi era il luogo dove si facevano i corsi di formazione era il luogo dove si si preparavano i puledri dove si facevano le gare anche dove venivano ospitati i cavalli a fine carriera ti ricordi il campo dei senatori ma quanti i nostri giovani cavalieri che adesso cominciano ad essere di mezza età hanno esordito nell'attività agonistica utilizzando gli scarti della preparazione dei puledri e dei cavalli dei prassoni vivaro tanti ma tanti perché la progressione se non può venire come dire attuata dalle famiglie ci deve essere qualcuno eh questo è un altro problema perché a livelli altissimi cioè a livelli olimpici o comunque di grandi gare l'equitazione costa a livello di base no ma costa se uno arriva alla fine della filiera sì se uno va a comprare cavalli già rivelati è chiaro che quelli hanno un costo inavvicinabile ma guarda gli americani facciamo l'esempio più banale gli americani montano secondo un sistema assolutamente italiano ogni tanto compaiono da noi dei binomi mai visti mai sentiti che si sono portati su un cavallo magari comprato le aste in Olanda o in Italia o in Francia o in Belgio o addirittura nato in casa o addirittura nato in casa si presentano vincono poi dopo magari non li rivediamo più tornano gli Stati Uniti oppure vanno altre cose voglio dire ma perché non lo possiamo fare anche noi abbiamo sempre fatto così perché avremmo bisogno di tornare ad essere buoni preparatori di giovani cavalli ma è ovvio quindi ridando ma è ovvio fiato all'allevamento italiano perfetto questo è il tema se noi facciamo quello che facevano i fratelli di Inzeo soprattutto Raimondo che si prendeva i puledri di 4 anni da Morese o da qualche altro allevatore se lo cresceva piano piano progressivamente dopo un po' ce lo trovavamo medaglia d'oro all'Olimpia del campione del mondo ma non solo lui Argenton con Woodland io con Serbi membro dei cavalli e non sapevo fare niente ma pagoro tutti quei cavallucci che oggi i commercianti di equitazione di cavalli butterebbero via perché sono cavalli da fare le categorie esordienti quelli erano cavalli che hanno vinto le Olimpiadi hanno vinto i campionati del mondo facevano due metri e venti in potenza voglio dire è che sapevano è una questione di cultura equestre e questo dobbiamo ricostruire senti ho visto che tra i consiglieri che Marco ha messo nella sua lista c'è anche un membro dell'Accademia Caprilli quindi deduco che l'Accademia Caprilli sia schierata dalla parte di Marco è uno dei motivi per quali come dire Marco Di Paolo sostiene le nostre tesi che cioè che l'equitazione italiana va ricostruita dalle basi va ricostruito un rapporto con le società sportive dandogli degli incentivi perché producano un vivaio serio e questo è un accordo che abbiamo con Marco Di Paolo noi vecchi cavalieri che abbiamo un'origine di lavoro di fatica di rigore siamo pronti a collaborare con lui lui ha accettato le promesse di Vittorio Orlani di due anni fa non sono state mantenute e quindi noi ci fidiamo di Marco Di Paolo e non di Vittorio Orlani punto non è complicato è semplice la verità io ti ringrazio di essere stato qui e poi adesso daremo la parola a Marco Di Paolo e vorrei che tu venissi un po' più spesso a parlare di Caprilli se mi inviti ma io ti accorgo quando vuoi se mi inviti io vengo va bene d'accordo hai preso l'impegno davanti a tutti dicono che io sia di parola lo so quindi se lo dico lo faccio grazie Mauro e passiamo poi a Marco Di Paolo Marco Di Paolo candidato per la presidenza della FISE t'ho beccato dopo lunga penosa malattia inseguendoti un po' di qua e un po' di là quindi i nostri telespettatori vedranno che non siamo negli studi di Unire TV ma siamo al circolo Ippico Pegaso dove è stato possibile incrociarti prima domanda pensi cosa pensi di fare per il discorso degli istruttori per la formazione degli istruttori per la preparazione per la possibilità di mettere in di creare un contratto di lavoro vai grazie salve a tutti grazie all'amica Sabina Findli che ci ospita oggi nel suo bellissimo maneggio che è sempre un piacere scoprire delle realtà così belle di maneggi che contribuiscono a far grande questo nostro sport equestre Maria Lucia mi ha subito fatto una domanda cattivissima difficilissima gli istruttori gli istruttori innanzitutto chi sono? sono degli appassionati che hanno fatto di questa passione un mestiere quindi queste persone sono a mio parere dei professionisti che la federazione in questo momento usa usa perché sono persone che portano nel nostro mondo tantissime entrate sono quelli che animano il movimento e non hanno nulla in cambio io per dare un chiaro segnale della diciamo di quello che è l'approccio della federazione nei confronti degli istruttori nel mio programma ho detto una cosa chiarissima io voglio togliere la quota di iscrizione degli istruttori è un fatto simbolico perché sono 50 euro moltiplicato per 2200 istruttori cioè sono 110.000 euro poco più del contratto che prendeva il signor Hank Norren per non fare nulla quindi rinunceremo al signor Hank Norren e rinunceremo alle entrate dei 110.000 euro degli istruttori però dobbiamo dare un segnale chiaro che gli istruttori fanno parte della famiglia federale sono parte della nostra casa federale ora tu hai toccato alcuni argomenti importanti su alcuni possiamo dare una risposta immediata il primo è l'aspetto assicurativo noi dobbiamo dare una risposta assicurativa adeguata agli istruttori noi dobbiamo dare una polizza che aiuti gli istruttori a essere tutelati se ci sono incidenti la federazione è il contraente della compagnia assicurativa versa un premio di 1.550.000 euro l'anno la federazione deve essere la controparte della compagnia assicurativa nella tutela dell'istruttore perché l'istruttore per la compagnia assicurativa vale 8 euro quindi è evidente che non è che c'è un grande peso quindi il primo intervento importante che dovrà essere fatto è quello sull'ambito assicurativo sull'ambito previdenziale professionale è un tema molto importante e molto spinoso i nostri istruttori oggi non hanno una dignità fiscale non hanno una credibilità bancaria non hanno un merito creditizio perché purtroppo non riescono neanche a fare una dichiarazione di redditi e di conseguenza non hanno nessuna tutela previdenziale noi dobbiamo intervenire e qua dovrà darci una mano seria il CONI perché è un problema non limitato agli istruttori di sport ma è un problema allargato agli istruttori di tutti i sport che sono centinaia e migliaia per non dire milioni e bisognerà assolutamente trovare una soluzione per tutte queste figure che di una grandissima passione hanno fatto una professione restando sempre in tema di istruttori come pensate di proteggere gli istruttori federali dagli istruttori abusivi dall'abusivismo della professione e come lavorare per la qualificazione e la riqualificazione anche perché il mondo cambia conoscono nuove tecniche quindi è importante per tutti la formazione professionale assolutamente sì innanzitutto il problema dell'abusivismo è un problema gravissimo perché gli istruttori non avendo purtroppo un albo riconosciuto non hanno nessuna tutela su quella che è chiamata la concorrenza sleale e su questo la federazione invece si deve fare promotore e garante questa tutela secondo aspetto è la formazione tu hai centrato un tema importante purtroppo la formazione ultimamente è stata abusata perché è stata utilizzata per fare cassetto ma forse ancora peggio è stata usata per fare clientelarismo da parte dei comunitari regionali nei confronti dei buoni e dei cattivi questa è la realtà la formazione deve essere riportata al centro del nostro mondo deve essere riportata al centro nella federazione centrale ovviamente la pratica sarà periferica ma l'ideazione sarà centralizzata e soprattutto un aspetto su cui io mi vorrò battere fortemente è pure nel rapporto con gli enti di promozione gli enti di promozione sono realtà importantissime utilissime perché sono quelli allora ti rispondo direttamente gli enti di promozione sono delle entità importantissime che fanno parte della famiglia federale fanno dei numeri importantissimi quindi sono realtà che vanno conosciute rispettate perché sono quelli che introducono al mondo dello sport noi abbiamo una piccola differenza rispetto agli altri sport noi abbiamo un altro atleta che si chiama cavallo un atleta generoso che è un compagno di sport e di divertimento che però potrebbe anche essere un oggetto pericoloso se non viene ben gestito allora probabilmente io ritengo e combatterò affinché la federazione riprenda la leadership sulla gestione del cavallo sulla formazione anche degli enti di promozione perché ritengo che la formazione sia un aspetto serio vada fatto con serietà e quindi io quello che chiederò agli enti di promozione che sono ripeto realtà importantissime utilissime che però attivano una collaborazione con la federazione per la formazione degli istruttori che deve essere fatta con molta serietà perché ripeto il cavallo è un compagno generoso ma anche un animale pericoloso se non gestito in maniera corretta io aggiungerei pure che dei cavalieri che non sanno montare a cavallo sono pericolosissimi per il povero cavallo che si ritrova un coso sulla schiena che gli sballonzola in continuazione purtroppo c'è una terza domandaccia il piano economico tu sai benissimo che insomma ancora la federazione nonostante il piano di rientro che fu fatto da Ravà mi sembra sia andato abbastanza bene ma insomma ancora ci saranno dei problemi allora signori su questo aspetto ho fatto chiarezza la federazione è stata presa dai commissari la federazione è stata risanata dai commissari la federazione è stata risanata realmente da tutti voi da tutto il movimento equestre da un movimento di gente sana da un movimento di gente operosa da un movimento di gente che lavora che hanno portato all'interno della federazione entrate e introiti che stanno consentendo di risanare il bilancio della federazione la nostra federazione sanno tutti che genera 18 milioni di entrate grazie al lavoro di tutti gli istruttori che abbiamo nominato prima grazie al lavoro di tutti i circoli ippici che attivano questo sport la federazione può contare ogni anno su 18 milioni di entrate il nostro commissario ci ha insegnato una cosa il nostro commissario non ha nessuna esperienza sportiva ci aveva soltanto correttezza etica ci ha dimostrato che gestendo solo in maniera onesta la nostra federazione è riuscito a fare il primo anno 400 mila euro di utili il secondo anno 900 mila euro di utili ha lasciato un piano di sanamento tracciato al nostro presidente Orlandi che seguendolo pedissequamente quest'anno ha portato un utile molto importante va chiarito pure un altro aspetto credo Lucia ai nostri telespettatori la nostra federazione non è una società quotata la borsa di Wall Street la nostra federazione è un'organizzazione che organizza il lavoro degli affiliati e degli istruttori la nostra federazione non deve fare utili perché lo scopo della federazione è quello di arrivare a zero la nostra federazione ha lo scopo di rinvestire tutti i proventi all'interno del proprio movimento quindi io signori non mi vanterei di utili fantasmagorici perché ha sbagliato la missione della federazione se fa utili la federazione deve risparmiare nel rispetto del piano di sanamento ma deve anche rinvestire o investire nello sport nei centri ippici negli istruttori allora i primi 100 giorni progetti sintesi allora io vorrei governare con il mio consiglio che chiedo di votare in maniera compatta perché abbiamo condiviso un percorso ci abbiamo messo la faccia e vogliamo e chiediamo che quelle persone siano rispettate quindi noi non facciamo giochi non facciamo giochetti il primo giorno scaduta la chiusura delle candidature abbiamo dichiarato la squadra il primo giorno non abbiamo fatto giochi sotto al tavolo sopra al tavolo noi ci siamo persone che mettiamo la faccia con la nostra squadra noi vorremmo fare alcune attività importantissime che sono dei segnali chiari della direzione che vogliamo prendere molto spesso ci chiedono qual è il programma il programma potremmo stare una giornata intera a parlarne forse tutta la notte e ci verranno ancora ulteriori mille idee noi dobbiamo avere chiari invece quali sono e dichiarare quali sono i nostri valori e la direzione che vogliamo prendere i nostri valori signori sono i tesserati i circoli i picci gli istruttori e i comunali organizzatori la direzione che vogliamo prendere sono lo sport con la S maiuscola la promozione sportiva e fare servizi ai centri affiliati la federazione non è un ente di potere è un'organizzazione che deve fare servizi nei primi cento giorni vorrei dare dei segnali forti il primo fare riunioni streaming noi abbiamo immaginato la federazione come una casa comune una casa di vetro una casa trasparente noi non abbiamo nulla da nascondere si farà tutto in chiaro e tutti dovranno sapere tutto perché stiamo discutendo di argomenti comuni di soldi comuni della casa comune vorrei togliere la famosa quota di 50 euro sono 120.000 euro degli istruttori che fanno parte della nostra famiglia e non devono pagare vorrei dare un segnale chiaro sullo sport vorrei che la federazione pagasse agli atleti che hanno avuto risultati importanti nell'anno sportivo gli pagasse l'autorizzazione a montare per far capire per ringraziare sono dettagli non sono gesti enormi però per far capire che sono atleti della nostra federazione vorrei che tutti gli atleti di secondo grado juniors e children la federazione gli pagasse l'autorizzazione a montare sono spiccioli signori stiamo parlando su 18 milioni di euro di entrate forse di 6-7 mila euro così iniziamo a dare pure la dimensione perché sono 68 gli junior e i children di secondo grado questi sono i numeri però è un segnale che un ragazzino di secondo grado è un ragazzino che sta facendo lo sport con l'S maiuscola che sta credendo nello sport e la federazione deve dare dei segnali chiari che sta investendo il loro poi vorrei aprire alcuni tavoli su dei temi che sono 18 mesi che stanno ancora là e non sono stati risolti io oggi Lucia mi vergogno di stare qui a parlare di tematiche che 18 mesi fa stavano sul tavolo e non sono state risolte mi riferisco ai trasporti mi riferisco all'agenzia di entrate mi riferisco all'ASL mi riferisco smaltimento dell'etame sono tutti argomenti che 18 mesi fa ne parlavamo e dopo 18 mesi sono sul tavolo io vorrei ripartire con la soluzione di questi problemi Marco io ti ringrazio e ti aspetto nei prossimi mesi mettiamola così va bene in qualsiasi caso abbiamo questa malattia comune e quindi ci rincontreremo in qualsiasi caso spero di poterti incontrare in una veste differente e spero di poter avere l'occasione di mostrare che veramente in questo mondo si può cambiare che questa relazione può essere ammodernata che può dare delle risposte a quelle che sono le domande che gli affiliati gli istruttori i cavalieri fanno e non riescono ancora ad avere una risposta concreta che si può cambiare